Sì, qui c'è una nuova serie del canale. Benvenuti a una nuova serie del canale. Poi mettiamo la magia magica. Quindi facciamo l'unboxing del shopping in the mall. Perché oggi in the mall, so I do a new series. In the mall, I do the unboxing of the shopping. Ok, questo è una nuova serie. Quindi, cosa c'è l'unboxing? Un'altra scuola di questo mese. Questa è la lista. Vedete, quando andiamo in the mall, ripetono. Questo è quello che compriamo. Ha ha ha. Non è un record. Allora, è 25 euro. È molto bello. È molto discount. Pocciocco. Pocciocco. È molto bello. Quando troviamo il discount tuna, ci sono le prese. È molto bello. È molto bello in Filippina. C'è un po' di fracassi, che è in questa couture. C'è un po' di fracassi. In Filippina, in questo tipo di fracassi, con i frutti, i mango, i frutti alo alo è molto bello cake sandwich qui abbiamo questo che è come ringo boys qui abbiamo chiamato bingo perché c'è anche la famosa serie che il nome del actor è bingo in la serie molto bello chocolate qui abbiamo questo è il fatto perché questo è il fatto non è non è non è una cosa un'altra 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 anche perché in Cyprus abbiamo molti di ma in Cyprus è un'altra 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 uno e la pizza so watch the video of the pizza un'altra stagione la stagione è buona mi piace questo l'ho rinco ora ho rinco che sono in frizzera half o il juice 100% ho trovato la spargura E' un'acqua di acqua, ma anche un po' di San Pellegrino. Questo è per il bambino. Poi compri due per il bambino, Cesco. E potete vedere la playlist Cesco. Presto! Perché questo è il città di questo. Ma noi preferiamo questo. Questo è famoso in Filippino. Ma questo è molto bello. Poi compriamo questo bambino. Tuna. Perché io e l'importante abbiamo comprato il bambino. Io stavo lavorando in un'estero. Bambino in Burger King, GFC. E anche in un'azienda in un'azienda. Molto. Quindi preparo hamburger, hot dog. E' molto bello. E' molto bello. E' molto bello. in un'azienda in un'azienda. C'è un'azienda per me. E' sorpresa. Questo è per me. Qui abbiamo... il mio favorito quando siamo sicko chicken noodles ogni volta che abbiamo finito andiamo a 7-eleven per comprare questo questo è il magico questo è per preparare il soup vegetale anche puoi mettere la carne e per preparare il tomato soup molto bello non so cosa vuoi fare con questo molto carne magari prepara il sweet non so questo è per il trotto è per il trotto perché ogni volta per questo giorno vi compri una speciale 5 1 2 3 4 e 5 Tea perché l'ultimo non abbiamo comprato quindi questo è per dormire questo è per quando vuoi raffreddare perché c'è il peppermint è molto bello e anche quando hai una ruota con il vino potete poter poter più energetica e mettere il vino perché questo è da Cina da Fucham province molto forte nero questo è per poter 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 causare poi poter poter faccio anche il video. Cosa è il migliore che si può vedere. È il ginger e il limone. È perfetto per la nausea. E poi compriamo la doppia per dormire. Scorn starch per fare cake o comunque, anche per la pizza. Ok, la prima cappa è finita. Questa mese abbiamo 4 cappa, ma ho solo 2 cappa. Abbiamo un altro presto. Molto bello, per il preghetto. Questo è per il dimentico. Per la piazza. Per la piazza. Per la piazza. Per la piazza. Molto importante. Per i miei bambini. Io vorrei prendere questo. Un po' dalla propria piazza. Tresera. E' questo nemmeno per i miei bambini. E' questo nuovo per i miei bambini. Lo sapevo. Perché non lo perdono. E' in quel momento lo perdono. Non lo perdono. Non lo perdono. Poi mettere la sopa Questo è il cremero In Filippini non prepariamo il difficile da trovare il coffe o il moca Quindi mettiamo il cremero In la città mettiamo il cremero Qui c'è la sopa Un altro shampoo Questo per il bambino Glutaneo Il gel Un altro Per oggi l'unboxing è finito Se avete piaciuto il nostro video just subscribe Thumb up, comment e vediamo al prossimo video Ciao!